Cresce l'aumento di nuovi casi di positività al coronavirus in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore sono 54 le persone cui è stata diagnosticata l'infezione da coronavirus. Nelle 24 ore precedenti erano state 33. I 54 casi appena registrati hanno un'età compresa tra i 3 e gli 83 anni. Il numero complessivo delle positività è ora dunque di 4137. C'è anche un nuovo decesso, un anziano di 86 anni della provincia dell'Aquila. 474 ora le vittime del covid dall'inizio dell'emergenza. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.984 di messi guariti, più 6 rispetto a ieri, di cui 18 che da sintomatici sono diventati asintomatici e 2.966 che sono risultati negativi in due test consecutivi. Le attualmente positivi in Abruzzo sono 679, più 47 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 182.106 test, 1.804 quelli fatti nelle ultime 24 ore. 48 pazienti, più 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 5 in variato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 626, più 48 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Rispetto invece ad una settimana fa, l'aumento del numero dei nuovi contagi è stato di 170, in crescita anche il numero dei dimessi guariti di 30 unità, mentre dopo 6 settimane senza decessi torna a salire di 2 unità anche questo triste dato. Ad inizio settimana era morto infatti anche un 76enne di Castiglione Messerraimondo in provincia di Teramo. Sempre nell'ultima settimana sono stati in crescita gli attualmente positivi, più 138, che si sono diruiti con un più 12 per i ricoverati in terapia non intensiva, più 1 in terapia intensiva e più 125 i positivi in isolamento domiciliare. I nuovi 170 casi settimanali sono così ripartiti per residenza a domicilio, più 35 in provincia dell'Aquila, più 45 in quella di Chieti, più 55 in quella di Pescara, più 33 in quella di Teramo, più 2 fuori regione, in variati i casi per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Tra i nuovi casi vi è peraltro il segretario nazionale di rifondazione comunista Maurizio Acerbo, risultato positivo al coronavirus ed ora ricoverato in ospedale. Secondo quanto riportato dall'ANSA, Acerbo è arrivato ieri al Covid Hospital di Pescara con febbre alta, spossatezza e sintomi del Covid-19. Nei giorni scorsi il segretario si è spostato in diverse località italiane nell'ambito della campagna elettorale. Lo stesso Acerbo nel primo pomeriggio ha scritto un post su Facebook dall'ospedale di Pescara dove sono ricoverato. Ringrazio tutti per i messaggi di affetto ed amicizia.